Lei ha filmato, e vedo con voi per la prima volta queste immagini perché sono arrivati in redazione mentre già eravamo in onda, ha filmato cosa? Io quella sera stavo guardando un film come al solito e da casa mia si vede quella parte di Ponte che adesso non c'è più, vede adesso la gru con i lavori, e quella sera c'era un posto temporale, come saprete, e mi faceva effetto vedere tutte quelle luci e i lavori che continuavano, adesso siamo abituati a vedere sempre i lavori, la chiusura dell'autostrada, ma quella sera lì faceva davvero effetto vederli, quindi ho fatto questi pochi secondi proprio perché per questo motivo. E tra l'altro fa impressione ancora pensare che poche ore dopo poi quel ponte sarebbe crollato, la parte che si vede nel video è proprio quella che è crollata? Sì, 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 io adesso non vedo più niente, vedo proprio sbucare la gru dei lavori adesso, non c'è più proprio quel ponte lì, quella parte del ponte.